Buongiorno e benvenuti alla conferenza etica e digitalizzazione a Venezia sull'isola di San Servolo, sede della Venice International University. Grazie di essere qui. Se è vero che la vita di noi umani non si misura dal numero di respiri ma dai momenti che ci lasciano senza respiro, allora a Venezia la vita è davvero lunga. Sono particolarmente lieta che la conferenza abbia luogo in Italia perché significa un ritorno alle origini, infatti da molti anni vivo all'estero, a Berlino, in Germania. Lo scorso agosto nei media tedeschi è comparsa una foto di Angela Merkel in vacanza ripresa da un paparazzo mentre leggeva un libro, Il tiranno di Stephen Greenblatt. I commenti suggerivano che la cancelliera tedesca si stesse informando su come trattare Trump e gli altri colleghi. Io invece oggi parlerò di un'altra opera di Stephen Greenblatt, The Swerve, in cui si racconta di come Poggio Bracciolini nel 1417 abbia scoperto una copia del libro sulla natura delle cose di Lucrezio, probabilmente nell'abbazia benedettina di Fulda e come questa opera del poeta romano, perduta e ritrovata, abbia contribuito al rinascimento dando una svolta alla storia. Rifacendosi ad Epicuro, Lucrezio scrive in un latino classico di sublime eleganza come l'universo e la materia tutta, sia composta da minime particole, gli atomi, che si incontrano, si combinano, si fondano, si dissociano, assecondando una traiettoria, ma talvolta per uno scarto improvviso il cleanamen cambiano direzione. Gli dèi esistono sì, ma hanno altro a cui pensare, non passano certo il loro tempo a controllare pensieri ed azioni degli umani e di sicuro non traggono piacere dalle loro sofferenze. Dunque non serve fare penitenza e fragellarsi, tanto più che un al di là non esiste. La vita è qui, adesso, conviene accettare serenamente la realtà ed essere felice. Una fonte di gioia nella vita è la soddisfazione del desiderio sessuale, tuttavia Lucrezio constata che anche nei momenti più sacri dell'amplesso non si è mai completamente felici, piuttosto il desiderio rimane insoddisfatto, cosa che spinge a cercare altri amplessi. L'origine della filosofia, si diceva nel mondo antico, si deve alla meraviglia. Sorpresa e sconcerto suscitano il desiderio di sapere. Lucrezio inverte questo processo, è proprio la conoscenza a generare in noi una profonda meraviglia. Con l'esercizio della ragione si coglie la vera natura delle cose, facendo così un balzo verso la felicità. Il desiderio insaziabile e la paura della morte sono gli ostacoli principali alla felicità umana, ma con l'uso della ragione si superano, ad esempio non credendo alle menzogne di sacerdoti e ciarlatani quando raccontano che le anime dopo la morte vanno altrove, perché questo impedisce di vivere appieno la vita. Il poema continua diffondendo meraviglia e gratitudine. Al tocco estatico del poeta la terra si risveglia, brilla la luce e sbocciano i fiori e la vita prorompente irradia gli esseri umani. Ecco la primavera di Botticelli. Ai tempi bui dell'inquisizione questi erano idee naturalmente pericolosissime e venivano combattute con tutto il truce armamentario, carcere, tortura, rogo. Vedi la fine di Giordano Bruno. I fondamentalisti religiosi, così come populisti ed estremisti, hanno combattuto e combattono con tutte le loro forze la ragione, la libertà e l'evidenza scientifica. Ma gli attimi senza respiro, la meraviglia, l'eros, la luce, la gioia, la ragione, la libertà, la ricerca, sono forze troppo forti. In vero gli esseri umani amano la primavera. Così le idee continuano a circolare per vie traverse. Machiavelli, Galileo, Montaigne, Newton e molti altri le diffonderanno. Persino Thomas Jefferson è stato influenzato ed ha inserito nella dichiarazione di indipendenza americana la ricerca della felicità. Visto che siamo anche qui a Venezia aggiungo che il Palladio è stato l'ispiratore dell'architettura della Casa Bianca. Anche le forze oscure di oggi propagano idee retrograde, nazionalismo, razzismo, sessismo, diseguaglianza ed ignorano l'evidenza scientifica, rifiutano i vaccini, negano l'emergenza climatica e cose simili. Come scrive Julia Ebna, una ricercatrice tedesca che lavora a Andarkova nelle chat, nei portali degli estremisti, il paradosso dei movimenti estremisti attuali, bianchi, nazionalisti, neonazi, islamisti, teorici della cospirazione, è che utilizzano la tecnologia più sofisticata per diffondere un modello di società del passato remoto. Le loro idee di società, cultura e ordinamento politico sono radicalmente antiquate e per poter ripristinare il passato più buio si servono di approcci futuristici. Come Poggio Bracciolini e tutti gli altri umanisti e umaniste, crediamo alla forza della ragione. Oggi presentiamo persone, progetti ed organizzazioni che lavorano con passione e competenza per diffondere la luce negli spazi oscuri digitali. Vogliamo così ispirare e motivare chi ci segue ad impegnarsi contro la diffusione di odio, fake news, violenza sessualizzata, manipolazione dei dati e tutte le aberrazioni che rendono impossibile la vita online e offline. E come dice Luciano Frori di la vita on life, perché ormai non c'è più neanche un chiaro distacco fra la vita online e quella offline. Il nostro intento è di iniziare un rinascimento digitale perché le potenzialità di digitalizzazione, intelligenza artificiale, robotica e tecnologie più avanzate vengano utilizzate per risolvere i problemi più impellenti dell'umanità, ossia mitigare la crisi climatica, debellare la povertà, ridurre la diseguaglianza e non a favore di sofisticate tecniche di sorveglianza, nuove armi o insaziabili interessi commerciali. Per questo siamo qui oggi. È necessario un impegno di tutti per promuovere uno sviluppo dei sistemi informatici a favore dell'umanità, visto i possibili rischi connessi all'evoluzione della ricerca e all'enorme occulto accumulo di dati digitali in corso. Dalle utopie quali un Atene digitale che accoglie le diversità e approfitta della robotica invece che della schiavitù di esseri umani come allora, alle distopie che raffigurano diversi livelli di dittature digitali, gli scenari che si aprono sono ora molteplici. Guardare la televisione potrà presto significare che la tv guardi noi. Alexa o Siri sono congeni che possono facilitare la vita, ma allo stesso modo sono in grado di trasformarsi in perfidi strumenti di sorveglianza. L'internet delle cose registra quando manca qualcosa nel frigo e lo rifornisce, ma potrebbe ordinare prodotti che convengono a chi li gestisce. Per questo siamo noi cittadini e cittadine che dobbiamo riflettere, dibattere e decidere il tipo di futuro che vogliamo e non quello che temiamo. La digitalizzazione, i social media, la robotica e la tecnologia hanno il potenziale di far fiorire la vita come non mai oppure di distruggerla. Cosa fa la differenza? Alcuni, vedi Giron Lanier, Rolf Dobelli, suggeriscono di cancellare i profili sui social media, altri consigliano di limitare il tempo online, imparare a programmare, altri ancora propongono di realizzare un internet europeo. Quello che fa la differenza al giorno d'oggi è sicuramente il plus valore dato dal contributo della diversità. Ai tempi di Lucrezio, Poggio Bracciolini, Thomas Jefferson, donne e schiavi venivano esclusi dalla vita sociale, intellettuale e politica. Anche la Commissione europea l'anno scorso ha fatto un primo passo emanando una regolamentazione per la protezione dei diritti degli utenti e delle utenti e ha realizzato il sistema europeo di navigazione satellitare, Galileo infatti. Ma ora la sfida è tra l'altro regolamentare social media, grande distribuzione, sistema 5G, ossia giganti tecnologici privati oppure di proprietà di regimi dittatoriali. In Europa pionieri della filosofia e dell'etica dell'informazione sono Luciano Floridi e Maria Rosaria Taddeo dell'Università di Oxford, i quali sostengono instancabili l'impegno coordinato di società civile, ricerca, politica e business per favorire strategie informatiche e infrastrutture digitali che rispettino la dignità e i diritti umani. Tra l'Europa e gli Stati Uniti è attivo Max Tegmark, un neuroscienziato svedese che lavora all'MIT, il quale ha fondato il Future of Life Institute riunendo le menti più brillanti attive nel settore con l'intento di lavorare insieme su beneficial AI. Nel 2017 in una leggendaria conferenza a Zilomar hanno definito 23 linee guida adottate poco dopo dallo Stato della California. Ad Asilomar è stata proposta anche la figura dell'ottimista consapevole, ossia una persona che lavora perché le cose buone si realizzino. La teoria dei giochi dice infatti che le visioni positive sono alla base di gran parte delle collaborazioni, dai matrimoni alle fusioni aziendali. Ciò significa contribuire ad immaginare e realizzare futuri positivi per il pianeta e l'umanità. Da ottimista consapevole invito a pensare al tipo di futuro che si vuole e non a quello che si teme. Tutti noi e le generazioni future dobbiamo assicurarci che la tecnologia si di beneficio al pianeta e all'umanità e non cedere lo spazio virtuale a movimenti estremisti retrogradi. Inoltre è importante creare un'economia fondata su una equa prosperità che riduca le disuguaglianze. Di fondamentale importanza infine accordarci globalmente sugli standard etici da far apprendere alle macchine potenti. Citando Julian Niederumeli, il filosofo tedesco, dico in breve che è da cambiare la direzione dello sviluppo digitale presente. In un mondo polarizzato e caotico se qualcuno avrà il potere di usare i sistemi informatici in modo malvagio prenderà meno precauzioni sulla sicurezza invece di cooperare. Se al contrario la società umana sarà in grado di collaborare per realizzare fini condivisi la rivoluzione digitale migliorerà la vita attuale e futura di tutti. Inoltrandosi nell'universo lo spazio si dilata, si flette, si increspa mentre i quanti si materializzano solo quando interagiscono con qualcosa d'altro. Carlo Rovelli sostiene che dobbiamo accettare l'idea che la realtà sia solo interazione. Come le cose del mondo anche gli esseri umani interagiscono in continuazione l'uno con l'altro e nel fare ciò lo stato di ciascuno porta traccia dello stato di coloro con cui ha interagito e Rovelli nota ancora che la differenza fra passato e futuro esiste soltanto quando c'è calore. Da ottimista consapevole sono convinta che Homo sapiens si salverà grazie ad interazione, cooperazione e al calore della primavera. Buon lavoro. Grazie a tutti.